Santo, 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 voglio vederti Santo, 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 voglio vederti santo 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 voglio vederti vogliamo dire ragazzi in voi c'è un potenziale enorme non buttatelo via non sprecatelo è vero ci sono tante cose belle si può uscire in discoteca nei bar è bello noi diciamo ragazzi uscite godetevi la vita ma non buttatela via andare in chiesa e sentire parlare di gesù sentire parlare di fede non è solo una religione ma è una vita che si può vivere nella concretezza di tutti i giorni un secondo aspetto distrae con obiettivo che abbiamo voluto raggiungere era quello che i nostri ragazzi che frequentano le chiese i gruppi giovanili possano invitare i loro amici che possano essere dei testimoni che la vita da cristiano è entusiasmante è bella vale la pena viverla fino in fondo grazie a tutti grazie a tutti